Allenamenti ripresi prima del tradizionale brindisi di fine anno per le giocatrici della Passaracqua Ragusa di Serie A 1 di basket. Coach Rambruschi lavora anche con le straniere. Van Lund, D'Or e Nichols si sono infatti aggregate al gruppo un giorno dopo, che è il permesso della società che ha consentito loro di prolungare le ferie per via della distanza dalle loro famiglie. Sul parquet del Paraminaddi non c'è ancora Elana Larkins, perché prima bisogna definire le pratiche per la concessione del visto per il nuovo acquisto della Passaracqua Ragusa. Il solo annuncio dell'arrivo del pivò americano ha comunque dato la carica alla squadra e a tutto l'ambiente perché la Passaracqua può fare ora il salto di qualità rispetto al girone di andate ed affrontare al meglio campionato Coppa Italia ed Euro Cup. Sarà infatti un mese intenso perché nell'ordine c'è prima la sfida casalinga alla Spezia per la Coppa Italia, poi la trasferta a Broni per la seconda di campionato e poi le due partite di Euro Cup con le cerche del Nimburg. Oltre all'Arkins si attende anche il rientro di Benedetta Bagnara, rientrata in sede dopo l'operazione al ginocchio e che passo dopo passo cercherà di essere in condizione di giocare. Se ne riparlerà almeno a metà febbraio, ma la notizia confortante è che coach Rambruskin, la fase cruciale della stagione, potrà avere un roster di primo livello, soprattutto per la capacità offensiva della squadra bianco-verde.